Volevi che sappiamo, ah non era ancora venuto. Calorano. Sì. Più. 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 Più! Più! Ci ho fatto oggi. Grazie. 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 Alla calabria. No, non porto peperoncini. Ecco. Perché è uno stereotipo, passa. Ciao. Allora ci ha salvato in calcio tanto. Eh, bravo. Ma Gaetano me lo diede venerdì quando facevamo il gazzèba al corso meridio. Tanto per me si chiedeva, ma perchè mi dai bucchi a me, se no mi aveva più copie, se no tienitela anche tu, perchè è sempre meglio che la teniamo tutta l'altra Se vuoi mettere come la, come la attivi? Non c'è da qua Con le fotografie si No, quando è attivata la camera, secondo me, ti si attivi e ti fa cambiare Noi facciamo delle gazebbe così seri, guarda oggi, stiamo debbordando la maniera Stiamo proprio debbordando Ma però se voglio staccare devo di nuovo praticamente staccare